Il passaggio è stato splendido C'è il colpo di testa, si sblocca il risultato E nonostante la pressione della difesa non ha perso la calma e ha messo la palla in rete Questo è un gol di pura caparbietà, era pressato, ha resistito e si è fatto largo trovando spazio per tirare Dopo 19 minuti è il numero 22